Ecco mio Ecco mio Signore io d'ecco Ecco mio Ecco mio Si compie in me la tua volta Il mio Signore ho sperato E su di me senti nato Adagostante al mio grido Nella città ediocesi di Lucca Visto il parere favorevole Della delegata generale Suor Fernanda Barbiero In forza del presente decreto Nomina Suor Catrì Catrì Marie Schumann Superiore del suddetto monastero Ad Nutum Sancte Sedis Città del Vaticano 15 giugno 2018 Joan Bras Cardinal di Arviz Prefetto Monsignor Cosè Rodríguez Carbaglio Arcivescovo Segretario Questa vita io voglio donarla a te Per dar gloria al tuo nome mio re Dove tu mi vuoi Dove tu mi vuoi Io sarò Dove tu mi vuoi Io vedrò Se mi grida il tuo amore Paura Nella preghiera firma E nella benedezza generosa Nelle buone obili E nel più umile Di partito il quotidiano Sì, lo voto Cristo Vierà Signore Signore La valentia delle sorelle Chi ci contano E nelle tue madriene Verona Padre Catrì Maria Faccio voti Per me Vi ricordami assolutamente La passione del Signore Gli esprimerà Nella mia storia di vita Di più Faccio voto Vivere in clausola E di osservare in castità Volentà E obbedienza Secondo la regola della nostra congregazione Della passione Della Santissima cruce E passione del nostro Signore E qui E qui Per il nostro Signore E qui Per il nostro Signore Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.